Allora, questo ciringhito che non finisce mai di stupire, che secondo me prenderà piede e lo troveremo in tutta Italia, ha anche inventato un nuovo modo di servire il vino, che è un... ce lo dice, ce lo spiega, non mi ricordo più il nome... Pietro, Pietro. Questo nuovo comparto Ready to Drink, è un bicchiere pronto, in un metacrilato di prima qualità, si stappa, si beve, si ricicla, è un gadget che può essere anche riutilizzato, può essere un portapenne tranquillamente. Quindi per dire, un bicchiere di vino in plastico, è un vento di vino buono, che si può aprire, bere direttamente, quindi non c'è il vetro, quindi tutta quella serie di luoghi in cui non si può portare il vetro, questo può andare, un concerto, uno stadio, un cat, neanche per un qualsiasi festa. Il vino non è vinaccio, come di solito si trova in questo nome qui, ma è... No, per esempio questa è una garganica in purezza di cantina di Soave. Beh, come si suol dire di tutto rispetto. Esattamente. E comunque una modalità nuova, pronta per essere consumata. Il vino con moderazione, come tutti gli alcolici, però... È un nuovo modo, io direi, informale di bere vino. Voi siete veramente... Sarà il cappello che vi fa. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie a lei.